camera my presidium potete vedere quello che sta incodrato qua già montata questo è il foglio illustrativo che vi dice dove acquistarlo vieni qua qua c'ho altri due tipi di telecamera c'è il telescopio questa che viene da Panasonic e quella my presidium che è questa e questo sono i pannelli trovati per caricare qualsiasi oggetto il tuo telescopio che possa essere fisica ok premi blu